Stefania, Diego, Lorena, Stefani, Elena La signora di Soni, Deborah E' desiderata la postazione del microfono Ripetito No, 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 no Ah, e come? Eh, certo ti sei fatto E io ti ho dato un po' la mano? No, no, tolgono Ma ritorni? Sì, sì, sì Sì, sennò sei rilato, sei tu, non ho detto comunque No, no, ma... Sì, non è andata la velocità Ha bisogno di prendersi questo, è stato anche troppo bravo Che pensavo ad andare su questo, tanto io Cosa, le zone bellissime Beh, forse su E' un po' la scuola 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 Eh, che non è andata la scuola E' un po' la scuola Non è andata la scuola Ah Ah